Video completamente inaspettato perché vista la situazione che stiamo passando qui in America ero sicuro che vi sarebbe piaciuto vedere quello che stiamo facendo io e Gabbro qua e infatti mentre io finisco di sciogliere la tuta che è appena arrivata con il pacco di Aprilia Special Parts Gabbro è là dietro che sta montando la testa adesso vi facciamo vedere cosa stiamo facendo per prepararci per Laguna Seca quindi mi sono cambiato situazione alle mie spalle c'è la moto con la quale abbiamo corso a The Ridge però come vi ho spiegato la moto siccome non avevamo a disposizione un motore preparato ho dovuto correre con il motore originale ovviamente già avevamo in programma fra la prima gara e l'evento di Laguna Seca di montare la testa di Gabbro che abbiamo provato in Italia che abbiamo utilizzato durante la gara della BDB e del Moto Estate 600 Open che abbiamo visto che funziona molto bene quindi adesso dobbiamo montare la testa di Gabbro su un altro motore che è là e adesso mentre Gabbro va avanti sul motore io mi smonto tutta la moto perché ci sono alcune parti che dobbiamo switchare sull'altro motore ad esempio la frizione di STM, l'airbox di Gabbro, i cornetti di aspirazione di Gabbro quindi diamoci da fare ne apri il radiatore subito primo scoglio per togliere il rinvio del cambio Gabbro ha una tecnica, come la definisci tu? è una tecnica me ce chiamano per i paesi me ce chiamano per i paesi, vai questo doppio giravite sembra una tartaruga ninja vai, 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 vai voilà già fatto andiamo avanti quello che sto smontando è il famoso airbox di Gabbro questo è un prototipo stampato in 3D che permette di risparmiare quasi mezzo chilo rispetto all'originale e permette di aumentare il volume della cassa filtro del 20% altra cosa intelligente è che l'airbox non ha un coperchio ma il coperchio è la parte inferiore del serbatoio che attraverso questa guarnizione sigilla tutto anche sulla moto di serie fra questo e il papero l'aumento di potenza è notevole questa invece è la famosa testa che non è arrivata a The Ridge anche questo è un prodotto realizzato e studiato da Gabbro i condotti sono stati ottimizzati al banco di flussaggio e poi riprodotti al CNC con una fresa 5 assi fondamentalmente qui rispetto al prodotto originale cambia la geometria del condotto per ottimizzare le sezioni di passaggio aspetta, aspetta, aspetta dai ok Nobby? beh di Nobby Iso per gli amici solo Nobby mi avete sentito parlare solo nel primo video lui è stato due volte campione AMA 125 GP ed ora capo tecnico del team veloce ed è la persona con la quale abbiamo condiviso la quotidianità dell'officina che ci ha fatto da cicerone spiegandoci l'America con la sua visione estremamente giapponese della vita e siccome noi italiani siamo dei romantici con Enzo e Gabbro gli abbiamo fatto un regalo per fargli capire la sua importanza per noi vai Enzo facci vedere vai Enzo Nobby, scusami ho un presento per te per questo weekend e mi prendiamo un veloce team cap e ho un capo per te hai un capo per te ok? si, per te per me apri il pacco per te ok è un dono il boss tu sei il boss tu sei il boss Nobby Nobby san sei un mio grazie mi ve oh ho ci grazie vi 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 Quanti cavalli facciamo stamattina? Che ora abbiamo fatto ieri sera in officina? 1.40 Oggi Cycle Tune Che è il preparatore delle moto di Team Veloce Ieri non c'è stato modo di filmare quello che abbiamo fatto Ma semplicemente abbiamo fatto al contrario quello che vi ho fatto vedere prima Ovvero rimontato tutto sulla moto E oggi siamo venuti qua a mancare Vediamo quanti cavalli facciamo finalmente con la testa di Gabbro Per vedere di avere un po' più di potenza per Laguna Allora risultati contrastanti dal banco Quello che abbiamo trovato è che sicuramente con la testa qualche cavalluccio l'abbiamo trovato Adesso stiamo scegliendo le diverse altezze dei cornetti Perché abbiamo trovato comunque che ci sono Con una diversa configurazione dei cornetti abbiamo più a lungo Mentre con l'altra abbiamo molta coppia Stiamo cercando di scegliere l'altezza delle cornette Configurazione da allungo Due trombette medie affiancate Mentre questa Questa è la configurazione da coppia Con il cilindro sinistro con la trombetta più lunga Questa è la configurazione che vendo di solito Media a destra Lunga a sinistra Abbiamo visto che però mettendo le due trombette medie Abbiamo un po' più di allungo Come vedete nel grafico rosso È la configurazione con le due trombette medie E abbiamo un po' più di allungo su in alto Dopo i 10.000 giri Però perde di coppia Intorno ai 7-8.000 giri Parte dopo la coppia Vedete il grafico blu La mostra che ci sono 4-5 cavalli di meno Adesso stiamo decidendo in che configurazione Poi mappare definitivamente il motore Abbiamo visto che comunque il cambio della trombetta Lavora tanto su quel cilindro Ma anche su quell'altro Decisioni Alla fine il risultato del banco parla chiaro Perché facciamo 98 cavalli alla ruota Contro i quasi 99 delle moto di miei colleghi Siamo contentissimi perché con un motore di scatola fresco Una testa e tutti gli accessori esterni Abbiamo raggiunto quasi lo stesso risultato del loro motore Che ha anche tutti i particolari superfiniti Che aumentano un sacco gli scorrimenti interni del motore Per non farci mancare nulla Siamo tornati in officina per montare anche l'acquisizione dati Visto che a The Ridge ho corso senza E qui di plug and play manco l'ombra E mi sono dovuto autocostruire delle staffe Per supportare i potenziometri Direi che per laguna ci siamo Ma siccome non possiamo perdere tempo là In quanto avrò solo una libera Due qualifiche e una gara Domani andiamo a provare la moto In un circuito americano folle Per risg instructional Grazie per la visione!